Cosa si faceva a decimomanno? Adesso parliamo dei tempi recenti, dagli anni 80 fino ad oggi. Cosa si fa a decimomanno? Fondamentalmente il tipo di attività che si fa a decimomanno sono di due tipi, attività aria-suolo e attività aria-aria. L'attività aria-suolo principalmente prevede attività a fuoco inerte, cioè non si usa mai armamento reale e si svolge al poligono di Capofrasca, che è praticamente un dito di terra che si estende nel golfo di Oristano, raggiungibile in volo in circa 10 minuti. Quindi dal decollo si va a Capofrasca, si fanno i giri, normalmente una slot dura 20 minuti, quindi 10 minuti di volo, si arriva a Capofrasca, 20 minuti di attività in poligono, sgancio delle bombette che possono essere 4-8 o attività gun, cioè il cannone, anche questo proiettili inerti, non si usa nulla di reale, e poi altri 10 minuti per rientrare. Questo mediamente prevede quindi una missione che dura circa 45 minuti, 50 minuti al massimo se non c'è da fare qualche holding, eccetera, e questo è quello che si fa giornalmente. Ai tempi, quando c'erano le quattro nazioni, c'era un programma di volo, ogni nazione aveva un determinato numero di slot di poligono dato dalla percentuale di pagamento delle quote della VTI e ogni nazione le riempiva in base al numero delle attività destrative necessarie. Era carino la prima volta che sono arrivato lì, quindi studiavo un po' l'opr1, cioè come la base svolge la propria attività, vedere che ogni nazione in queste attività aria suolo aveva determinati nominativi, perché così i controllori in torre riuscivano a capire subito chi chiamava la torre di che nazionalità fosse. Allora avevamo gli inglesi nominativi che come nominativo c'avevano la Gonda, i nomi delle macchine, oppure c'avevano Rover, i tedeschi Audi, Mercedes, Porsche, gli italiani Fiat, Ferrari, a seconda del tipo di... normalmente se si andava all'ACMI il nominativo era Ferrari, se si andava all'aria suolo era Fiat, gli americani c'avevano Chevy, Mustang, roba del genere. Quindi il controllore di torre sapeva già chi stava chiamando, dove voleva andare e cosa voleva fare. Dopodiché dava le istruzioni al rullaggio eccetera eccetera. Un inciso, a me una volta è capitato che per un ritardo sono dovuto tornare indietro, cioè i velivoli che decollavano erano veramente tanti, non si poteva ritardare neanche cinque minuti, quindi una formazione da quattro doveva essere veramente, come dire, sharp. Si andava al velivolo, tutti i guanti mettevano in moto contemporaneamente, chiamate radio e si rullava. Non c'era da perdere tempo, non c'era da avere indecisioni eccetera. Quindi dicevamo missioni aria-aria, cioè aria suolo di questo tipo, missioni aria-aria. Le missioni aria-aria erano di due tipi, o mitragliamento alla manica, quindi addestramento al tiro col cannone, con la mitragliatrice, contro un altro velivolo alla manica a vento, ovvero missioni da combattimento nell'area delta-40 a est della Sardegna. Queste qui potevano essere di vari tipi, o una nazione, poi lo vedremo, se aveva un'attività addestrativa da fare, la faceva all'interno della propria attività addestrativa, che ne so, 1v1, tornado contro tornado, 104 contro 104, oppure se i piloti in addestramento avevano la necessità di fare un'attività più complessa, si andava dai colleghi, proprio fisicamente, si andava al mattino e ci si metteva d'accordo, si andava dai tedeschi, tu oggi hai qualche attività da fare? Dice sì, ti do questa sortita, oppure si andava dagli inglesi e quindi ci si organizzava a fare queste attività di ACT, di similar combat training. Come si svolgevano le attività poi normalmente per l'attività aria-suolo? Diciamo, dividiamole in questo modo, che poi è quella che maggiormente facevo io. La prima volta che sono arrivato lì è veramente tosta, cioè nel senso, la prima volta che ci si arriva non più da piloti in addestramento, ma da pilota che deve raggiungere la combat training, si vede che cambia completamente l'approccio a quello che è il volo. Non si è più protetti dall'istruttore che bene o male sa cosa fare e l'allievo, bene o male, deve dimostrare di sapere qualcosa, ma viene sempre protetto dagli sbagli. Quando si arriva lì e si ha il gruppo, sa da fare, cioè le cose devono essere fatte come devono essere fatte. E certo è impressionante arrivare a decimo manno e vedere allineati, come succedeva quando sono arrivato io, velivoli tedeschi, stiamo parlando di decine e decine di velivoli, F-104, c'erano i nostri, c'erano gli inglesi, gli americani, cioè veramente tante attività. E questo dava un po' l'idea che uno stava crescendo, cioè finita il momento dell'allievo stava crescendo. Si arrivava a decimo manno praticamente per due settimane e si cominciava con quelle che erano le qualifiche. I piloti dei bombardieri, come standard Nato, devono fare le qualifiche. Ogni anno devono raggiungere determinati risultati nel bombardamento aria-suolo. Quindi si iniziava immediatamente, in base alle esigenze che aveva in quel momento il gruppo con l'attività di volo. Mediamente si volava due volte al giorno, anche tre volte al giorno. Volare non era molto difficile, nel senso che la preparazione della missione in sé non richiedeva una grossa pianificazione. Il percorso veramente era molto semplice, si arrivava, si usciva, procedure standard, tutto standardizzato. Quello che durava un po' di più era il briefing, specialmente nei primi giorni. Si richiamavano quelle che erano tutte le procedure e si richiamavano di nuovo, si rinfrescavano bene quelli che erano i parametri di sgancio, il tipo di pattern che si voleva fare al poligono. Sia perché da molto tempo, almeno sei, otto mesi che non si andava al poligono, sia perché dipendeva molto da chi era nella formazione. Normalmente le formazioni erano da quattro velivoli e quasi sempre erano composte da piloti più esperti, piloti in addestramento, navigatori più esperti, navigatori magari alle prime armi. I tipi di bombardamento o come antomeno di poligoni che si facevano erano di due tipi. Prettamente visual, cioè chi buttava la bomba, chi la sganciava era il pilota, o radar. E chi faceva il puntamento era il navigatore con il radar. Erano due eventi completamente differenti e che andavano ben bilanciati all'interno di quei famosi 20 minuti, che sembrano tanti, ma in realtà sono molto pochi. Allora, il bombardamento del navigatore, delle pilota, gli eventi possono essere eventi livellati, dive, gun, dive 45. E praticamente cosa succedeva? Una volta entrati in formazione, una volta che il direttore del poligono dava l'autorizzazione all'ingresso al poligono, il pilota chiamava la formazione in ala destra, quindi da che eravamo in formazione un pochettino più tranquilla, tutti i velivoli si mettevano scalati a destra. In maniera tale che si passava sulla torre, il pilota autorizzava il break, il direttore del poligono autorizzava il break e da lì iniziava una giostra, che le prime volte diventava una giostra veramente difficile, perché gli eventi si susseguono con una velocità impressionante e le cose da controllare e da fare sono tantissime. Quindi il pilota, il primo arriva, rompe a sinistra e si mette in una specie di circuito triangolare. Praticamente, siamo arrivati qui, prima base, sottovento, da qui il pilota inclina l'aereo e dà il giusto angolo di picchiata necessario per l'evento che si era programmato, che possono essere 15, 30, 45 gradi. Cosa fa il navigatore in tutto questo momento? Fa delle cose molto importanti. Innanzitutto prepara il pacchetto delle bombe, come devono essere sganciate le bombe, prepara i controlli, cioè legge i controlli al pilota, prepara, cioè lui deve mettere il, tutti gli switch necessari allo sgancio della bomba devono essere on, non è la prima volta che succedeva che qualcuno la bombetta la dimenticava, eccetera, eccetera. E cosa più importante, doveva controllare dove stanno gli altri tre aerei? Perché nel momento in cui si vira o si scende giù ci si perde di vista, è molto facile perdersi di vista, è molto facile passare davanti, quindi bisogna rispettare le posizioni in questo triangolo, in questo circuito, che con l'esperienza diventa molto semplice da tenere, ma all'inizio è molto difficile. E come si faceva a controllare questa posizione a vista, ma ci sono degli eventi in cui diventava difficile, ma principalmente con le chiamate radio, perché l'evento, il circuito perfetto praticamente prevedeva un velivolo sta scendendo a fare il bombardamento, uno sta chiamando off perché è appena finito, un altro sta in questo punto e un altro sta virando per andare dentro. Quindi rimanendo in silenzio e attenti, sentendo le chiamate radio dei colleghi, si riusciva a capire ciascuno dove stava. Questo naturalmente non era sufficiente, perché uno chiama la posizione in base a dove pensa di essere, ma bisogna pure vedere se effettivamente è lì, se non ha tagliato dentro il circuito. Quindi normalmente si facevano questo qui, si facevano otto giri, otto bombette, e il direttore chiamava i vari score e bisognava raggiungere almeno due bombette consecutive al 100%, non era semplicissimo. Ed erano degli eventi in cui il pilota faceva quasi tutto manualmente, cioè il computer di bordo sicuramente dava tutte le indicazioni nelle DAP display, ma determinato il manico un pochettino riusciva a compensare quelli che potevano essere gli errori del vento o di qualsiasi altra natura, che non avrebbero certo facilitato lo sgancio. Altro tipo di poligono invece era quello dedicato principalmente al navigatore ed era il bombardamento radar. Questo era un circuito sicuramente più lungo, meno frenetico del bombardamento visual fatto dal pilota e prevedeva di fatto un grosso biscottone, con cui i velivoli si distanziavano di circa 30 secondi l'uno dall'altro, prevedeva di scendere lungo costa per circa 10 miglia, fare tutte le preparazioni necessarie allo sgancio della bomba e una volta fatta la virata inbound al target, il navigatore cominciava col suo radar a lavorare il target, cioè il bersaglio, che di fatto è rappresentato da dei bidoni che riflettono un attimino il bersaglio, ma facili non sono da trovare, perché tra le rocce ed altri motivi, altre le bombette che stavano lì, molto spesso il bersaglio non era così evidente, però con un po' di esperienza si tirava fuori, il pilota non doveva fare altro che seguire le indicazioni che dà il navigatore in quel momento, di fatto non pilota l'aereo, l'aereo va in automatico e segue le indicazioni del navigatore che dà con il radar, scanciava la bombetta e di nuovo si ricominciava. Normalmente in questo circuito si facevano quattro passaggi, perché essendo molto lungo il tempo non permetteva di farne più di quattro. Finiti questi passaggi, molto spesso perché scadeva il tempo, il capo formazione chiamava la formazione, la radunava, praticamente si andava a nord, si raggiungeva il golfo di Oristano, si seguiva il golfo di Oristano e si rientrava. In questo momento, quindi quando ancora si era sul mare in piena sicurezza, si faceva il bomb check, cioè si controllava che tutte le bombette fossero partite correttamente e che quindi si potesse fare un rientro safe lungo terra in base. In questo momento si entrava in due e in quattro, abbastanza normale, abbastanza semplice, si chiudeva la comunicazione radio con il polino, con il direttore e si contattava l'avvicinamento di Cagliari, che poi era sempre a decimo manno, si contattava l'avvicinamento di Cagliari per il rientro in base. Lì diventava un altro piccolo, non dico problema, però per i navigatori in poi in addestramento si cominciavano a sentire tutte le altre formazioni che stavano in giro, quindi separarsi dagli altri era importante, le procedure permettevano di volare a determinate quote, però guardare fuori e vedere gli altri era sempre interessante. Nel bellissimo cielo della Sardegna non era difficile, sentendo le chiamate radio, vedere dove erano gli altri, quindi bastava dare un'occhiata e si vedevano le formazioni dei Phantom che andavano verso l'Acme o si vedevano i 104 che rientravano, oppure la formazione che stava andando al poligono che ti passava sopra e che andava dall'altra parte. Sicuramente era un'attività interessante. importante. Si rientrava a decimo, si atterrava, abbastanza semplice, la bellezza di decimo manno è che c'ha due piste di fatto, quindi si poteva liberare, rullare velocemente, si andava fuori, si andava al parcheggio. Finita questa attività c'era il debriefing, si vedevano gli score, si commentava un pochettino quelli che erano stati gli errori, il capo formazione richiamava quelli che erano i punti diciamo più importanti della formazione, ma di fatto in 10 minuti, in 10-15 minuti si era già come dire liberi, anche perché non è che passasse molto tempo, al massimo un panino, un caffè e da lì a 10 minuti iniziava il briefing per la missione successiva. Questo se può sembrare un po' tirato, alla fine era la cosa forse più divertente, si stava veramente tanto in aria, si stava sempre a fare qualcosa. Di fatto l'attività aria-suolo era sempre di questo tipo, ogni tanto si facevano delle basse quote, ma solamente nel pomeriggio se si riusciva ad avere del tempo, però di fatto questo era l'attività più standard di noi bombardieri. Quello che piaceva molto ai piloti, a me un po' meno come istruttore, era quando si andava a fare lo strafing, cioè l'uso del cannone. Quella era la parte più divertente per loro, perché è la parte in cui, non lo so, gli dava più soddisfazione. E da istruttore con il ragazzo giovane non è la cosa più bellina da fare, perché i pericoli o quantomeno i problemi insiti nell'attività a fuoco sono tanti. I ragazzi si fanno prendere un po' dall'eccitazione di cominciare a sparare con questi cannoni che danno veramente una bella sensazione sul tornado, i due cannoni che sparano. Quindi bisognava controllarli. Però sicuramente era veramente interessante fare questa attività. L'attività, invece, l'altra parte di attività che si faceva a decimo anno era l'attività a diaria. Questa già cominciava a essere un qualcosa che era un po' fuori dagli schemi, cioè non era proprio il nostro pane quotidiano, però è qualcosa su cui ci applicavamo, ci piaceva farlo, era molto divertente.